Io sinceramente, che ti posso dire, se l'obiettivo è quello, comunque vada di diminuire l'attenzione che c'è su questa zona qua, quantomeno sulla scogliera, questo poteva essere una forza, non lo so, in modo indiretto può far sì che ci scemi un po' l'attenzione su quest'area. Adesso ne prendo atto, ne stiamo ancora pensando, ne prendiamo atto della cosa e ovviamente lo sgombero non mi invita a cena.